Lillin, ben ritrovato, ciao Nicolai. Buongiorno. Dicevo in apertura, vabbè, quantomeno essendo stato bocciato sia dagli ucraini che dai russi, possiamo dire che il piano era equidistante. Purtroppo sì. A me sembra che questo piano ha più valenza della politica interna che quella estera. Cioè sul piano internazionale non è contato nulla, però... Sul piano internazionale purtroppo no, non ha contato molto. Anche abbiamo visto che la risposta di altri paesi occidentali non è stata molto entusiasmante. Però questo non significa che non dobbiamo tentare di migliorare, di riproporre, di tentare a convincere due parti ad arrivare alla soluzione pacifica. Cosa mancava a questo piano? Un'azione politica, cioè quindi la pace si costruisce al di là della sostanza della trattativa con l'alleanza dei paesi, oppure c'è qualcosa di sostanza? Esattamente, esattamente questo. È un piano, a mio avviso, è una buona iniziativa, ma non è stato completato nella sua visione geopolitica. Poi noi facciamo parlare comunque anche in modo in cui è stato riproposto. Noi abbiamo ascoltato i russi, abbiamo ascoltato gli ucraini, nessuno di due in questo momento è intenzionato a una soluzione pacifica e lo capiamo. Capiamo perché i russi non la vogliono, capiamo perché gli ucraini non sono interessati. La guerra in questo momento purtroppo prevale le agende di entrambi e anche dei terzi paesi che sostengono ad esempio questa guerra. Quindi io credo che noi dobbiamo soprattutto, innanzitutto, condividere questo piano nella base occidentale, quindi con altri paesi occidentali, capire come possiamo arricchire una nostra iniziativa diplomatica, perché tra l'altro è giusto che parte dall'Italia un'iniziativa così. L'Italia è un paese importante, un paese anche particolare a livello della politica occidentale. e siamo la culla della civiltà occidentale in qualche senso insieme con la Grecia e quindi è giusto che da noi partano queste bellissime iniziative. Diciamo che questo piano in pratica ripartiva, ricalcava quelli che erano stati gli accordi di Minsk che poi non sono stati rispettati. E' una coppia di accordi di Minsk e secondo me proprio per questo anche non ha funzionato. Perché altrimenti chi ha una vittima in famiglia da piangere, un figlio che è morto in guerra da un fronte dall'altro, poi alla classe politica dice scusate abbiamo fatto tutto questo e poi... Ci state prendendo in giro. E mi rendo conto che... Però al momento qual è il punto di caduta? Cioè dove si dovrebbe andare a parare? Secondo me la cosa importantissima è capire intanto appoggiare un piano del genere da una maggioranza di paesi occidentali. Quindi noi dobbiamo in Occidente innanzitutto capire se tutti sono d'accordo con un'iniziativa del genere e ogni paese deve proporre qualcosa al riguardo. E poi con un piano del genere, con sostanziale partecipazione di tutti i paesi europei, perché qua ad esempio l'Ucraina vuole entrare in Unione Europea e noi abbiamo visto la freddezza nelle dichiarazioni recenti al riguardo. Macron ha detto che ci vogliono decenni, Scholz ha fatto capire che non è affatto contento di questa prospettiva. Quindi ad esempio alla parte ucraina sarebbe bello garantire una probabile entrata. Stessa cosa, le garanzie, certe garanzie bisogna dare anche a Putin. E per esempio? Sicuramente la questione Crimea è una questione importante per lui e quindi bisogna assicurare la Crimea. Poi queste sono le mie teorie, sottolineo. Sì, sì, però noi ti ascoltiamo per questo. Io assolutamente non vorrei... Conosci bene, diciamo, la Russia. Sì, io penso che Putin aspetterebbe qualcosa di più sostanzioso sulla Crimea, magari sul Donbass. Forse in questo periodo lui aspetta proprio dall'Occidente un segnale di riconoscimento di questi territori. Vado alla cartina, perdonami, così può essere... Qui c'è la Crimea, qui c'è il Donbass e questa è la zona di Mariupol, la vedete anche qua, in cui si è combattuto così tanto, come abbiamo sentito. Sulla città che non c'è più, però, perché Mariupol... Lui vorrebbe tutto il Sud Ucraina, però è folle adesso pensare di regalarle tutto il Sud Ucraina e dire, vabbè, prendi tutto il Sud Ucraina, abbiamo capito che lo vuoi, evitiamo la guerra, evitiamo questi anni e anni di guerra, perché ci saranno anni di guerra ancora. Però intanto ti riconosciamo la Crimea, e così sei tranquillo se è posto a livello internazionale. Ti riconosciamo il Donbass, ovvero quei territori dell'Espi che sono autoproclamati indipendenti e che da anni comunque sono lì nello stato di guerra, e da qui però tu fai il cessato di fuoco, un cessato di fuoco serio, senza provocazioni. Noi creiamo una linea, mandiamo i caschi blu, mandiamo, insomma, osservatori OSCE, mandiamo tutti quelli che faranno da scudo. Per mantenere quella pace. Sì, fermiamo la guerra, smettiamo questo inutile omicidio. Però alla parte ucraina, allo stesso momento, perché se noi a Putin diamo la Crimea, gli ucraini si sentono in difetto, ed è giusto perché loro hanno perso un pezzo del loro territorio. L'Ucraina è un paese fallito a livello geopolitico, perché ha perso il proprio territorio. Quindi a loro bisogna dare qualcosa di importante, e quindi garantire in qualche maniera o l'entrata nell'Unione Europea, o la visione, o l'inizio di un percorso, non lo so. E questo secondo me sarebbe già la base buona per iniziare. Però deve partire questa proposta, e io sottolineo, non dall'Italia va bene, ma con l'appoggio di tutti i paesi europei. Con la compattezza di tutta l'Europa, che deve garantire poi quell'ingresso dell'Ucraina, e anche far capire a entrambi i contententi che la minaccia europea c'è. Da una parte magari un minore sostegno, e dall'altra eventualmente un'escalation delle sanzioni. Nicolai, grazie per essere stato con noi. Vi voglio far vedere invece le immagini che sono arrivate questa notte, grazie Nicolai, questa notte da Stromboli, dalle Oli.